Bella ragazzi, scusate per il video che lo carico tardi, però stavo allo stadio, adesso ho mangiato e parliamo un po' della partita Vinciamo 3-1, seconda vittoria consecutiva in campionato, ottimo risultato, ottima partita della Lazio, ho giocato bene Abbiamo visto sprazzi di Iperalazio e di Sardi lo scorso anno, quindi sono molto contento di questo Per quanto riguarda la partita in sé, in primo tempo a Lazio ha giocato bene, diciamo che non è stata precisa, sottoporta E quello che è mancato nel primo tempo, il neo è stato appunto, non concretizzare le azioni che abbiamo creato e ne ho create tante Poi il secondo tempo inizia bene, comunque la Lazio entra bene in partita con un atteggiamento giusto, con la cattiveria giusta E questa è una cosa molto molto importante Rimontiamo, altra cosa che di solito non ci riusciamo a fare questa benedetta rimonta La Lazio questa volta lo fa perché va sotto al 56esimo con il ricorre di Solè, netto purtroppo il braccio largo di Guendosì Ma prima c'era anche una spinta su Guendosì che l'arbitro non ha visto Allora, faccio una premessa, l'arbitro è veramente scarso, proprio veramente inadeguato per la Serie A Chiusa parentesi, poi la Lazio dopo il gol del Frosinone subisce un po' il colpo per 5 minuti Poi con la spinta dello stadio siamo anche, la Lazio è rientrata in partita e al 69esimo Grazie a una giocata ottima di Sachs che è entrato molto bene al posto di Filippi Anderson Che purtroppo male oggi Filippi Anderson, parte del primo quarto d'ora, poi si è spento Come ha detto anche Sarri in conferenza stampa I Sachs hanno messo una palla al bacio irritati che fa un gol incredibile Un'elevazione da terra da attaccante vero proprio Bellissimo il gol del gesto tecnico dei Castellanos Si è sbloccato dopo un digiuno di 8 partite se non sbaglio Era l'ultima, è stata Conto Atalanta Si che ha fatto il 2 a 0 E poi c'è stato questo digiuno E poi per fortuna oggi si è sbloccato con un grandissimo gol, bellissimo Poi due minuti dopo il ruraccio di Carritano Negara palla al Tati che serve i Sachsen che sta sulla sua destra I Sachsen apre il piattone col sinistro E poi già in porta e fa il 2 a 1 al 71esimo Due minuti dopo il pareggio E' stata un'ottima reazione E sono molto contento di questo Ma dobbiamo anche dire che il Fosinone Quest'anno ha dimostrato che ha dei cali mentali molto importanti Come quello di oggi Ma come quello di Gaiveri Che sta da 3 a 0 3 a 1, 3 a 2, 3 a 4 Quindi anche lì è stato un brutto calo Diciamo che questa squadra soffre di questi cali mentali E stanno facendo perdere punti importanti Comunque Tornando a parlare della nostra Lazio La Lazio dopo il 2 a 1 si diverte Comincia a giocare benissimo Cioè continua a giocare benissimo Che hanno tante azioni Abbiamo avuto altri 3-4 palle gol Bisogna fare anche gli applausi A un grande brata di Durati Su una corpazia di Tati Che senta quel gol ragazzi Cade giù lo stadio Veramente bella la sua coordinazione Purtroppo leggermente troppo debo Il tiro però Veramente straordinario Il Tati Benissimo Poi il 3 a 1 arriva Dall'uomo che sta rappresentando Diciamo La lazialità in campo Patrick Perché Ben gol comunque ha fatto Patrick Anche se era davanti alla porta Però stava lì pronto E ha segnato e chiuso la partita Sul 3 a 1 All'86 Patrick Sono molto contento di questo suo gol Perché è stato immeritato Dopo aver fornito tantissime prestazioni Di ottimo livello In coppia con Ghila Anche oggi Anche oggi Ghila Ha fatto una buonissima partita L'unico nello rimane L'infortunio di Pellegrini purtroppo Speriamo che non sia grave Grave del previsto Penso che sia comunque Muscolare L'infortunio di Pellegrini Speriamo che non sia Grave Perché oggi ha fatto una grande partita Pellegrini Veramente Bene bene Pellegrini In entrambi le fasi Sia nella fase difensiva Che sempre è stato Un suo tallone d'Achille E la fase offensiva L'ha sempre fatta bene Quindi È un peccato Una cosa positiva Che Domenica prossima Crudini Si torneranno Lazzari Che era squalificato oggi Per due giornate E Romagnoli Credo E quindi Penso che si dipenderà il posto Da titolare Il posto di Ghila E ci sarà anche Casale E poi ci sauterà Camata Che andrà in Coppa D'Asia Molto probabilmente E vediamo un attimo Cosa succederà Per Luisa Alberto Immobile E anche per Pellegrini Che sono appunto Infortunati E Saranno fuori ancora Per un po' Ancora un pochetto Sia Alberto Che Immobile Detto questo Ci vediamo In un prossimo video Scusate l'attesa Ma Stavo lo stadio A festeggiare E Niente Ci vediamo Nel 2024 E A Lazio Autonese Lazio E niente Buon anno a tutti E sempre Forza Lazio Dai Lazio Buon anno a tutti